Non si possono permettere di fare un decreto quando non era questa la storia che poteva essere fatto ad Ailano, nel senso che tra i due comuni, Ailano e Raviscanino, conferire l'umido. Non si fa questo. Quelle che vedete in questo momento sono le straordinarie immagini girate dal nostro operatore che sta sorvolando il comune di Ailano, dove secondo un progetto della regione Campania e per il quale esiste già un decreto, dovrebbe sorgere un impianto di compostaggio che tanto sta facendo discutere. Un'area che, secondo il racconto dei condatini, è la zona tra le più fertili del piccolo comune che ha dato da vivere a diverse generazioni. Ora è qui che potrebbe arrivare una colata di cemento e per questo la preoccupazione per l'impatto ambientale è molto alta e coinvolge naturalmente i due comuni, quello di Ailano appunto e quello vicino di Raviscanina, dove noi siamo stati per incontrare la gente, i due sindaci e per saperne di più sul progetto e sugli scenari futuri di questa iniziativa che nasce fra mille contraddizioni. Allora siamo a Raviscanina, nell'alto Casertano, siamo a pochi chilometri, credo pochissimi chilometri da Ailano, un altro piccolo comune, dove è in programma un impianto di compostaggio. Ovviamente la gente del posto non ci sta a tutto questo ed è stato addirittura costituito un comitato. Ecco, lo chiediamo al presidente Francesco Dorsi che è a fianco a noi, come stanno le cose adesso? Allora noi abbiamo trovato l'esigenza di costituire un comitato perché abbiamo saputo all'inizio dell'anno che c'era un decreto che è autorizzativo nell'area PIP del comune di Ailano di un impianto di compostaggio per umido che dovrebbe lavorare 55 tonnellate giornaliere di compost, di umido. Era previsto, questo impianto è previsto per i due comuni oppure per altri comuni della Campania? Allora, per quanto è a nostra conoscenza delle documentazioni che abbiamo consultato, 55 tonnellate giornaliere non sono quelle dei due comuni perché sappiamo dai dati che abbiamo avuto che i due comuni insieme fanno circa 120-130 tonnellate quotidiane, per cui sicuramente è un impianto sovradimensionato rispetto alle esigenze delle popolazioni. Che cosa pensate di fare adesso? Allora, già abbiamo attivato tutte le procedure con la regione Campania, con i settori interessati dell'ambiente, affinché vengano, abbiamo inviato delle osservazioni in quanto c'erano delle incongruenze, abbiamo rilevato delle incongruenze sulla progettualità che possono andare ad inficiare il decreto. Chiediamo l'arevoca del decreto. Ecco, a fianco a noi c'è anche il sindaco di Leviscanina che a quanto sembra nella prima fase ha dato anche un assenso. Che cosa è successo esattamente? L'assenso a me mi mandano una PEC dicendomi di se potevo conferire l'umido al comune di Elea, tra i due comuni, perché è intercomunale, perché non si poteva svolgere un'attività con un valore di 55.000 tonnellate al giorno, ma bensì di massimo 130 tonnellate all'anno. Noi facevamo i due comuni. Quindi io... Diciamo che in qualche modo siete stati un po' ingannati, no? Certo, perché non rispecchio alla normativa vigente, perché chiaramente non risulta che l'abitazione sono a due chilometri e non lo sono. L'acqua è a poca distanza, quindi è chiaro che hanno mistificato il decreto. Quindi noi ci appelleremo a tutto quello che io posso fare in qualità di sindaco, anche se non era a conoscenza. In questi giorni sono venuto a conoscenza di questo decreto grazie a un cittadino di Leviscanini che mi ha messo in guardia, io non lo sapevo. Io ho dato solo un assenso dicendo con le normative vigenti, se non ci sono le normative vigenti in materia, non conforme. E' chiaro, non si farà nulla, non si può fare... Io per me sono convinto e adirò per via legale, anche se centro marginalmente, però io mi impegnerò a tutto ciò che non venga fatto. Si può fare per cercare di abolire il decreto che è stato fatto? Certo, certamente sì, perché non è possibile avere dalla regione Campania, e lo voglio dire pubblicamente, noi siamo pubblici amministratori, mi sento di essere una persona onesta, davanti a Dio e davanti agli uomini, lo posso dire, lo posso testimoniare. Non si possono permettere di fare un decreto quando non era questa la storia che poteva essere fatta ad Ailano, nel senso che tra i due comuni, Ailano e Raviscanini, conferire l'umido. Non si fa questo. La regione Campania, e non voglio dire una parola volgare, ma non... Diciamo che ha sbagliato. Allora Sindaco, in tutta questa situazione, qual è la posizione del comune di Ailano? Buongiorno innanzitutto. La ditta proponente, innanzitutto, sono delle persone che per anni hanno abitato in zona, in zona Ailano-Valle Agricola, e a noi proposero come impianto, un impianto di commostaggio di scarti alimentari delle industrie conserviere, e potevamo conferire i rifiuti solidi urbani del comune di Ailano e Raviscanina, e a questo punto penso che nessuna amministrazione avrebbe dato motivo ossotivo. Però purtroppo, dal decreto della regione Campania, che ahimè è alle prese con il problema rifiuti, molto superficialmente ha detto che in questo impianto devono essere stoccati e quindi ricilati rifiuti di mezza Campania. E a me, come cittadino e come sindaco, questa cosa non mi sta bene. Poi, leggendo le carte, gli atti tecnici, si evincono alcune congruenze che noi come amministrazione stiamo già vagliando e stiamo agendo per la nostra strada. Presidente, giusto per concludere, vuole aggiungere qualcosa? Noi oggi abbiamo continuato la mobilitazione, continueremo tutte le nostre attività, fin quando non arriveremo all'obiettivo. Ci fa piacere che anche si stiano ravvedendo, non vogliamo essere strumentalizzati, la politica non c'entra nulla, siamo un comitato civico e daremo l'opportunità di avviare un serio impianto di compostaggio, ma quelli là di cittadini, noi siamo sempre favoribili. Da Raviscalina è tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it